Mamma mia ragazzi, l'ho detto che il calcio è strano, l'ho detto nel video di oggi di Lazio-Inter 4-2 che il calcio è strano. L'Inter, praticamente al 75esimo di questa partita, era a meno 6 dalla Lazio. Cosa è successo adesso? L'Inter è in Champions League. L'Inter è arrivata a quarta. L'Inter ha vinto per 3-2 in casa della Lazio. Allora, premetto prima di tutto che vi dico subito quello che voi volete sentirvi dire. A me non cambiava nulla di chi andava avanti. Potevo essere contento per gli amici interisti, potevo essere contento per gli amici della Lazio, a me cambiava sinceramente poco. Io da esterno mi sono goduto una partita bellissima, una partita stupenda, proprio emozionante, con lo stadio pieno, occasioni da una parte e dall'altra, ribaltamenti di fronte, l'Inter che pareggia poi si fa rimontare e poi rimonta ancora una volta. E' stata una partita bellissima, bellissima, mamma mia. Io, prima di tutto, ci tengo a dire che secondo me la Lazio si è letteralmente suicidata su tutte le competizioni. La Coppa Italia, io non ricordo neanche chi fin ha fatto, però guardiamo un po' il campionato. Ha buttato in 5 minuti tutto quello che di buono aveva fatto in questa stagione. In Europa League, in 10 minuti, ha buttato tutto quello di buono che aveva fatto in Europa League. Nella stessa Europa League, ovviamente. La Lazio si è completamente suicidata con le sue stesse mani e l'Inter ne ha approfittato nella maniera migliore. Veramente questa è stata la classica partita spettacolare che poteva finire con qualsiasi risultato. Alla fine del primo tempo Lazio, giustamente in vantaggio per 2-1, con un gran gol di Felipe Ander, sono poi altri due veramente ridicoli, uno sulla faccia di Perisic, un altro con mezza rovesciata di D'Ambrosio. Tra l'altro D'Ambrosio che ha segnato più gol di Candrema in questa stagione, per dire. E a fine del primo tempo il risultato sembrava ormai scritto. La Lazio in totale controllo, l'Inter che doveva vincere per forza, non stava giocando benissimo. Ormai anche io ho pensato, sarà quasi fatto, ormai la Lazio sta controllando. Anche all'inizio del secondo tempo non ho visto questa rimonta così grande dell'Inter. Poi all'improvviso, farlo quasi di mano di Milinkovic-Savic, l'arbitro dà rigore e poi non lo dà più, perché giustamente la prende di spalla. Tre minuti dopo, De Frey travolge i Cardi in aria. Adesso io non voglio guardare il lato oscuro delle cose, ci mancherebbe. Adesso io non voglio dire che De Frey se l'hai venduta o cazzata di questo genere. Però ho fatto un intervento veramente assurdo, con i Cardi in aria di rigore. Poi più che altro da rinvio del portiere, perché il portiere l'aveva rinviato. La balla è stata rimessa in mezzo, De Frey, pum, gamba alta, fallo. C'è veramente qualcosa di assurdo. Poi Cardi ha segnato e dopo due minuti, gol di Vecino, espulsione di Lulic e lì praticamente la partita è finita. È stata praticamente la fotocopia di Inter-Juve 2-3. Con una squadra che è andata in svantaggio, ha rimontato e poi è stata rimontata ancora una volta. Vraimenti. Partita stupenda. Partita bellissima. Io lo ripeto, non facevo il tifo per nessuno, io facevo soltanto il tifo per il bel calcio. Visto che la mia Roma comunque ha vinto una partita un po' bruttina, e vi racconterò ovviamente nel video post-partita di Sassuolo Roma, e ho messo diretta gol e ovviamente la partita è stata praticamente soltanto allo Stadio Olimpico. E quindi vi posso fare un analisi su questa partita. L'Inter che secondo me merita questo punto di andare in Champions League. Cioè, non si può dire merita o non merita. Per me avrebbe meritato chi avrebbe vinto questa partita. O comunque chi se la sarebbe portata a casa. Alla Lazio sarebbe bastato anche il pareggio. No, hanno perso in casa, quindi è giusto che la Lazio non va in Champions League. E io non lo dico per conquistare quale odio verso la Lazio, perché io non essendo di Roma non provo questo odio così grande per i cugini laziali. Magari se fossi stato di Roma probabilmente sarebbe stata una cosa maggiore, e probabilmente oggi sarei estasiato, sarei contentissimo dopo questo risultato. Comunque, in ogni caso, secondo me è giusto. È giusto perché se tu vai a buttare le ultime tre partite che ti devi giocare, le buttare, meriti di uscire. Perché la Lazio poteva vincere col Crotone e erano già in Champions League. No, hanno dovuto pareggiare quella prima, pareggiare col Crotone e perdere oggi. Quindi tu, se perdi queste tre partite, comunque se non ne vinci neanche una, meriti di non andare in Champions League. Mi dispiace, questa è la dura legge del gol. È la legge del calcio. Tu le partite decisive te le devi portare a casa, come il Napoli in campionato. Il Napoli non può recriminare, è Orsato, è Pippo, è Pero, è questo e quell'altro. Non potete dire niente se nelle ultime quattro partite perdete tra zero con la Fiorentina e pareggiate col Torino. È questo quello che voglio dire. Per me l'Inter ha meritato di andare in Champions perché ha fatto gli stessi punti della Lazio, ma ha vinto la partita più difficile di questa stagione. Era l'ultima, doveva vincerla. L'hanno vinta e quindi merito di andarci loro. Io da sportivo, da persona che guardava la partita con totale disinteresse, visto che noi eravamo già qualificati, gli faccio i complimenti perché non era per nulla facile, soprattutto in caso della Lazio. Stavi perdendo 2-1, sei riuscito a rimontarla 3-2. Qua vuol dire veramente che hai fatto una grande impresa. Però, se bisogna dire le cose come stanno, è stata sia una grande impresa dell'Inter e bisogna dargli in meriti. Dall'altra parte c'è stato un totale suicidio della Lazio, che ha buttato in 5 minuti praticamente tutto quello che di buono aveva fatto non solo in questa partita, ma in tutta la sua stagione. E qua Inzaghi deve capire come è possibile che la sua squadra, che è stata praticamente quasi tutta la stagione in Champions League, non ci sia andata. Si faccia un esame di coscienza. Detto questo ragazzi, fatemi sapere nei commenti voi cosa ne pensate di questa stupenda partita di Lazio-Inter 2-3. Ci vediamo presto per la recensione di Sassuolo Roma, un saluto e sempre e comunque Forza Roma! Ciao ragazzi!